Ormai da un bel po' di tempo, sono un po' di mesi che faccio lo sgarro due volte al mese, non lo faccio più una volta a settimana, l'ho sempre fatto una volta a settimana ma non riuscivo a far migliorare la mia condizione. Ma questo perché? Non perché lo sgarro una volta a settimana sia sbagliato, per come l'ho sempre fatto io, per come lo fanno la maggior parte delle persone, lo sgarro è un momento dove vogliamo sentirci liberi di mangiare quello che vogliamo. Ecco ma questo sentirsi liberi, per me almeno, io voglio realmente mangiare tutto quello che voglio in quel momento. Sapendo bene questa situazione che andrò ad avere, ho deciso di farlo due volte al mese perché facendo una volta a settimana e sforando in modo eccessivo con le calorie, se siamo in ipercalorica diventeremo soltanto grassi facendo lo sgarro una volta a settimana in questo modo. Se noi invece siamo in ipocalorica perché vogliamo tirarci, se lo sgarro è fatto regolarmente settimanalmente ma in un modo eccessivo, questa ipocalorica non funzionerà mai, diventerà una normocalorica e nella peggiore delle condizioni un'ipercalorica, quindi ci ritroveremo più grassi di prima addirittura. Fare invece uno sgarro una volta ogni due settimane, se vogliamo realmente concederci un pasto più abbondante è sicuramente un'ottima strategia.